Roma è gestita malissimo, le buche, la criminalità, non è che devo dirlo io, c'è un dato che però non è stato detto, questo governo ha già varato tre salva Roma, tre decreti salva Roma, perché oltre che essere gestita malissimo, è perennemente in default, è perennemente fallita, l'Italia deve metterci i soldi perennemente sui buchi del comune di Roma, sui buchi del signor Marino, perché oltre che gestire malissimo la città, non riuscire neanche a tagliare le erbacce, non riesce neanche a far quadrare i conti, poi a me fa ridere francamente il PD che in questo momento governa Roma, governa la provincia di Roma, governa il Lazio, è al governo nazionale, C'è il funerale di Casamonica sul quale abbiamo fatto una figuraccia interplanetaria, però è colpa del precedente sindaco piuttosto che degli extraterrestri, piuttosto che di chissà chi, di chi è la colpa? Governano dappertutto, quelli del PD, chissà di chi è la colpa di Casamonica, prima l'esponente di Venezia diceva Alemanno, ma che c'entra? Governate tutto, governate pure il condominio di Casamonica, è colpa di Alemanno.